Buon proseguimento di serata su Italia 1 con Total. Se tu sei più duro della vita, canta. La strada non è sempre una sconfitta. 15 anni, io non mi fido più di nessuno. Ma può diventare un percorso obbligato. Dove torno io? Non dovrebbe sapere nessuno. E Fisio, le storie di Invisibili. Tra poco su Italia 1. Ogni giorno si impara qualcosa. Trovare il coraggio di crescere e impegnarsi a trovare solo gli ingredienti più naturali. Capire quanto è importante un amico vero. E quanto saper preparare le ricette più genuine. E poi si impara ad aspettare, con un po' di pazienza. Perché è così che accadono le magie. E sapere di essere sempre innamorati della vita, proprio come lo siamo noi del nostro mestiere. Per farti ritrovare ogni giorno, dentro un mulino bianco, tante cose buone e genuine. E anche un po' della tua vita. Mulino bianco. Scegli un mondo genuino. E questo è Livio sugli scogli. Guarda che tramonto. Guarda, nonna, Livio che ha preso una cernia così. Ma che, era così? Era così. E questo è il nostro ristorantino preferito. E allora? E allora che? E allora? E allora a me tutto sto mare mi ha fatto venire un appetito. Tornarevi alla cernia di quattro salti in padella con pomodoro e olio d'oliva. Mi ricordano quelli della mia mamma, con i filettini buttati dentro all'ultimo. Ma tu le hai già mangiate? Certo che sì. Allora tu puoi passare diritto ai dolci, ovvia. E vatti a fare un giro, vado. Quattro salti in padella a Fintus. Buoni come fatti in casa. Più C1. Più parcheggio. Più parcheggio. Meno stress. Meno stress. Più sorrisi. Più sorrisi. Più amore. Nuova Citroen C1. L'unica City Car con navigatore multimediale e lettore MP3 integrato di serie. Da 8.600 euro. Con noi Italy parli gratis con tutti i telefoni d'Italia e i cellulari Wind. Gratis. Da Wind. Milano Finanza presenta alla collana I grandi classici dell'economia. Da sabato il primo volume La ricchezza delle nazioni di Adam Smith in regalo con Milano Finanza. Non sarò in copertina sulle riviste sportive. Per me niente servizi in televisione. Niente poster che vanno a ruba. Né primo posto in classifica. E i miei capelli non faranno mai tendenza. Allora dai. Dimmi che non sono un atleta. Con la tariffa sera di Enel Distribuzione dalle 19 all'una l'elettricità può costarti meno. Se hai il contatore elettronico chiama il numero verde e informati sulle nuove tariffe. Please don't take my sunshine away. Vivi Ben. Vivi Ben. Grazie a tutti Grazie a tutti Stream Monster Truck da costruire La nuova specie dominante Il più grande, il più potente, il più estremo Vivi le emozioni più incredibili Prima uscita con DVD solo 1,90 euro Sono 75 euro Guardi che aveva detto 60 Prima era 60 che è passato un po' di tempo Quindi il prezzo è aumentato Ti lasceresti trattare così da un conto corrente? Con i conti Genius il prezzo è bloccato fino al 2010 Unicredit Banca Posso contarci Gente di Conad Artisti nella qualità Premi un col a Conad Maestri nella convenienza Un litro e mezzo 50 centesimi Fino al 4 marzo Questo è Conad Ma sei sicuro che è qui il ristorante? Qualsiasi informazione cerchi Fidati solo del 1254 di Telecom Italia Oggi costa meno E trovi tutto quello che cerchi 1254 L'elenco abbonati di Telecom Italia Se qualcuno è a conoscenza di un motivo per cui questo matrimonio non dovrebbe essere celebrato Parli ora o taccia per sempre Nuova Ford Fiesta Nuove emozioni al prezzo di sempre Con doppier bag ABS climatizzatore a 10.950 euro Il successo continua Prezzi bloccati fino al 28 febbraio Festeggiali anche sabato e domenica Basta con le sedute scomode Mettiti comoda C'è nuovo Line Spetalo Blu L'assorbente morbido e molleggiato Sulla pelle c'è la morbidezza di un petalo E sotto Soffici micromolle Mettiti comoda Con Line Spetalo Blu Italia! Non muovetevi Hollywood ha da poco salutato una stella del suo cinema Italia 1 rende omaggio a Chris Penn Mettiamo tu le pistole Maratona Chris Penn In una notte due film Domani a partire dalle 2.10 Un poliziotto speciale Sei solo Agente Vincent Nutriente crema al latte Più goloso cioccolato Oro stelle La stella delle visco merende In un poliziotto speciale Oro stelle kon Grazie a tutti.